Il forum 2024 che si è svolto alle termini di Sardara è stato promosso dall'azienda leader nel mercato del calcestruzzo italiano che ha scelto dopo 31 edizioni la Sardegna per venire incontro alle problematiche degli imprenditori isolani. Presenti oltre 50 aziende sarde specializzate nel campo delle costruzioni, nel corso dei lavori sono emerse tutte le criticità e le soluzioni per il miglior utilizzo di un prodotto fondamentale per l'edilizia e negli appalti pubblici ma soprattutto sul come affrontare oggi l'ecosostenibilità di un componente fondamentale come il calcestruzzo. Direttori commerciali e responsabili del settore delle costruzioni regionali si sono potuti confrontare con i più importanti esperti di questo comparto. Per noi la sostenibilità è un tema fondamentale sia per la nostra azienda con tutti i progetti e gli investimenti che abbiamo fatto negli ultimi anni e soprattutto per l'aiuto alla decarbonizzazione che possiamo dare a questo settore. Possiamo produrre opere più longeve, possiamo ridurre l'impatto ambientale utilizzando cementi con una impronta carbonica inferiore e possiamo anche utilizzare meno risorse naturali come acqua piuttosto che tutto quanto riguarda le nuove ricette e formulazioni dei cementi che stanno arrivando sul mercato.